Lui si farà risentire? Chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda, seguo il video. Nel frattempo iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora mescoliamo le carte, tagliamo, giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere 4 casuali, la carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Allora, concentrati su questo lui, pensa a questo lui, del quale vuoi sapere se si farà risentire, puoi anche stoppare il video, puoi farlo ripartire, dopodiché scegli o la carta 1, o la carta 2, o la carta 3, o la carta 4. Per chi ha scelto la carta 1? Allora, il carro, quindi, sì, ci sono buone possibilità, il carro del trionfo, che si faccia risentire, moltissime. Chi ha scelto la carta 2? È una persona che lavora un po' nel torbido, quindi non è detto che si faccia risentire, se lo farà non è detto con fini propriamente trasparenti. Chi ha scelto la carta 3? Assolutamente no, rottura totale. Chi ha scelto la carta 4? Sì, si farà risentire, con buona intenzione di voler ricucire, ricostruire qualcosa. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!